Che cos'è il PANGI? Il PANGI è il Piano Nazionale della Garanzia Infanzia che è stato istituito dal Governo italiano attraverso il Ministero del Lavoro, nominando un coordinator che è la senatrice Anna Maria Senafini, per realizzare questo piano alla luce della raccomandazione europea del 14 marzo 2021 che individua appunto nell'attività di coordinamento in tutti gli stati d'Europa appunto la realizzazione di iniziative per promuovere irse realmente i diritti dell'infanzia in ogni paese. In Italia il PANGI ha individuato alcune tematiche specifiche che sono appunto la povertà minorile e in quell'ambito quindi realizzare azioni efficaci per promuovere diciamo le strutture sul territorio, azioni concrete perché appunto il divario si riduca e i ragazzi possono effettivamente godere di diritti che appunto gli sono riconosciuti dalla Convenzione di New York. Per poter aderire o entrare all'interno di questo piano il Sud c'è? Il Sud c'è grazie a un'intuizione devo dire intanto riguarda tutto il piano nazionale ma la coordinator, la senatrice Serafini, ha individuato una debolezza per quanto riguarda appunto le amministrazioni locali del Sud, i distretti sociosanitari che sono quelli che devono promuovere le azioni per accedere a questi fonti che sono tantissimi perché il PNRR come sappiamo mette a disposizione nell'ambito di 235 miliardi e in più raccorda le altre strutture, gli altri strumenti finanziari che già esistono per quanto riguarda l'infanzia e ha deciso di promuovere un gruppo di lavoro proprio sul Sud del quale io faccio parte è proprio per svolgere un'azione di sensibilizzazione per il rischio e che oggi il rischio è come abbiamo visto anche nel passato ma oggi ancora di più diciamo a fronte di questi enormi finanziamenti che ci sono che il Sud possa non godere e possa rischiare di perderli. I comuni possono essere interessati a questo progetto? I comuni sono praticamente i soggetti titolari di questa attività. Se i comuni che si riuniscono in distretto sociosanitario come lei sa non promuovono, non presentano diciamo i progetti è chiaro che i finanziamenti li perdono. Anzi con l'occasione mi permetto di proporre a lei nella sua qualità non solo di giornalista ma di presidente dell'UNICEF dove potessimo fare insieme magari in questo territorio un'iniziativa per promuovere una sensibilizzazione sarebbe veramente molto importante.